Ciao ragazzoli da Sampotato3, eccoci qua su Back to the Future, The Game, sempre live with gold, siamo al terzo episodio, nello scorso gameplay cosa abbiamo fatto? Abbiamo recuperato la data, adesso andremo a inserirla, allora praticamente, sicuramente dobbiamo aprire, dobbiamo accendere, sì, perfetto. Allora, vedete che la terza linea lì non va, ci ha fregato, dobbiamo inserire il circuito, 14 giugno del 31, quindi dobbiamo andare, penso, ah che io andrei anche una settimana prima, ok, ah 14 maggio, un mese prima andiamo, Adesso dobbiamo andare a 88 miglia all'ora, e raga, e raga, si vola, 130, ma 88 miglia all'ora penso che sia, io penso che 88 miglia all'ora sia più di 103, dipende poi se è miglio terrestre o miglio aeronautico, che ne so io. Sì, ma il problema, eh, il problema è quello che, voi andate a 88 miglia all'ora, vedete nel passato, no, e se c'era un muro lì, una montagna, si sfracella, va bene, dai, chi è lì? Ma, ah raga, perché è andato via il suono? Ma non c'è, che è successo? Ah ci stanno, ah siamo spawnati, ah che cavolo, no, non sta a spararci alla nostra, eh, bullo. Ma che babbeo è il scerifo? Ci ha fregato? Eh, the car of the future, si? Ok, adesso dovremmo nascondere la macchina dietro il cartellone. Perfetto. Due miglia Eh, vedi che, sì, noi dobbiamo trovare Doc. Perfetto. Ale, dammi un obiettivo. Abbiamo fatto il primo viaggio nel tempo. Siamo andati nel passato. Einstein, guardiamo ora, ragazzi. Vedete, dove abbiamo recuperato nel primo episodio il coso lì. Ah, sì, perché dopo lui, è vero, mette il gancio perché la macchina si incasina, eccetera, eccetera. Ecco l'orologio qua, dove abbiamo dovuto averci nascosto il diario. Ok, cerchiamo tutto più e più volte, vediamo cosa dobbiamo fare. Occhio lì al tram. Dai, eh. Dov'è Doc? Questo è un gazebo nei parchi. Eh, scusate. Ah, l'ultra scarpe, è vero. C'era la sedia. Si sedeva lì e si faceva lustrare le scarpe. Chi è quella lì? Ah, quella dovrebbe essere. Forse la vecchia. Che era prima. Ah, ok, c'era il proibizionismo, c'era una cosa. Ah, sì, perché è vero, faceva la cosa. Faceva, sì. Faceva la reporter, hai? Diciamo la seconda. Ok, perfetto. Sono un supporter. Dai, ok, perfetto. Ah, ok, ci ha preso per un coso. Ok, dove li posso trovare? Eh, dammi un'altra. Voglio sapere dove abita Carl Sagan, che sarebbe Doc. Michael Corleone. Michael Corleone, siamo. È la vecchia che... Sì, è lei. Sì, ti ho detto, sì. Ti ho anche ribaltato il giornale a casa tua. Ah, sì, è quando sperdo la scarpa. Sì, che dice che quando un cane la zannata... Sì, 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 adesso mi ricordo benissimo. Sì, è barber, vabbè. Ah, ok, per farlo correre facciamo così. Vabbè, io adesso qua mi ispeziono un po' di cose, poi vi farò vedere... Vi farò vedere che cavolo è qua. Spero che non... Non mi entra? Oh no, se devo farmi tutto... Eh, no. Then get out! Get out! Ah, io rietro. Ok. Non ho niente di money. Perfetto. Allora io mi controllo un po' qua... Off the camera. Vedete, più e più volte bisogna controllare sempre le stesse cose. Finché non dice le stesse robe. Ecco, quando dice le stesse robe siamo a posto, ragazzuoli. Adesso, vabbè, controllo off the camera, vediamo un po' cosa succede. Ok, ragazzuoli, abbiamo trovato Dokken. Bisogna esaminare la finestra della stazione di polizia. Quando arriviamo al paese lì ho esaminato tutto, tutto, tutto. Si può entrare solamente... Si può entrare solamente a destra della stazione di polizia, c'è una specie di... Che ne so io, di... Mensa dei poveri, dove danno il brodo. Praticamente c'è un tubo che va nel basamento, servirà forse per qualcosa in futuro. E poi si fanno, si esaminano il telefono, le scritte nel muro, bla bla bla, altre cose. Ci sono anche i gangster che entro a un certo punto, parlano con il nostro nonno. E poi noi proviamo a entrare dentro la cucina, ma il tipo tira fuori la pistola e ci dice che non possiamo il cuoco. E quindi dopo sono uscito, ho controllato qua e vediamo un po' cosa fare qua. Ok, sto ancora parlando con Dok, praticamente... Ah che cavolo! Psst, Dok, dai vieni qua! Ah ok, ehm... Praticamente, ah sì, diciamo che abbiamo trovato il nostro nonno. Allora, abbiamo... C'ha trovato un numero di telefono, perché dobbiamo trovare il suo più giovane del 31, di modo tale che ci costruisce una specie di attrezzo per uscire di prigione, per farlo uscire di prigione. Quindi adesso finisco le domande qua e poi andiamo, torniamo nella cosa dove si c'è la zona e andiamo a telefonare. Ok ragazzuoli, dobbiamo andare adesso di nuovo con il numero di telefono, qua dove si fa la soup kitchen open, entriamo, e andiamo al telefono, non so se devo usare il... Adesso vi faccio vedere praticamente quando proviamo a entrare, che lui si incazza. Guardate, guardate, eh... Oop! No! Però praticamente lui mi fa vedere questo palo, questo tubo qua, va fino alle fondamenta della casa, di questa roba qua, quindi... Adesso abbiamo questo qua, telephone, usiamolo, e abbiamo il numero. Il numero lo sappiamo perché ce l'ha dato Doc, e ci dobbiamo dare appuntamento. Brown residence. Ok. 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 Allora, riproviamo. Di nuovo uguale. Vediamo se adesso ci può... Ci può parlare. Ok, perfetto. Ok, questo magna sempre, questo. Ancora, sì. Sì, ok. Obosarese, sì. Obosarese. Fammi parlare con te, vediamo se mi parla ancora. Ahem, ahem, ahem. Hello? Ok. Ok, perfetto, non ci cagli. Ok, niente da fare, tutto uguale. E quindi devo andare... Ok. Ok, dogs, counterpart, local, clerk in the courthouse. In the courthouse. Ah, nella... E dai, eh. Ciao, mensa. La courthouse, sì, è il palazzo, quello lì. Va bene. Ragazzone, abbiamo ottenuto il numero, quindi il prossimo episodio, penso che dovremmo andare nella courthouse. Sì. Vi spoilerò tutto, io sono un spoilerone. Comunque in tutti gli edifici qua non si può fare un bel niente. Perché va di là? Ah, ecco. Ok, ragazzuoli, allora, io come sempre, io direi di concludere qua, io come sempre vi ringrazio, come sempre commentate, iscrivetevi, lasciate un mi piace, eccetera eccetera. Io vi ringrazio, vi saluto, ciao ragazzuoli, sabato 3, bye bye bye. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.